Due giornate dedicate alla prevenzione dell'udito, sabato 19 giugno 2021 e lunedì 21 giugno. La prima giornata presso il Centro Salos del Dottor Vigenzo Gusto, organizzata dall'Acustica Gambana in collaborazione con FSI USAE, Segreteria di Vallo della Lucania, la seconda giornata presso Farmacia Sodano, organizzata sempre dall'Acustica Gambana. Tracciamo un bilancio di queste due giornate. Come bilancio non è andato male, perché effettivamente abbiamo avuto un ottimo riscontro. Le persone sono molto curiose, amano la prevenzione, gli piace capire lo stato del proprio udito. Quindi queste iniziative vanno bene, vanno fatte. Di persone ce ne sono state, ce ne saranno ancora sicuramente, me lo auguro. rispondono in modo positivo, questo è sicuro, hanno voglia di sapere. Quando è importante appunto la prevenzione in questo campo? Allora la prevenzione è fondamentale per poter capire lo stato del proprio udito, come qualsiasi altro tipo di prevenzione chiaramente, perché senza prevenzione non si saprebbero tante tante cose. Mi pare opportuno sensibilizzare le persone a questo, perché prevenire, come si suol dire, è meglio che curare. Una volta che il nostro udito ha raggiunto una soglia bassa, cioè che scende, 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 poi è ancora più difficile poterlo recuperare nel tempo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.